L'Unione fa letteralmente la forza, soprattutto quando si parla di finanziamenti di fondi che devono assolutamente essere reperiti. E così, insomma, hanno deciso i comuni di Cerreto, Quaregna e Cossato. Quindi vi unite così, Sindaco? Beh sì, insomma, siamo a dirimpetto. Per cui io sono veramente contenta di questa collaborazione e che auspico porti anche dei risultati. E spero che non si fermino poi qui le collaborazioni naturalmente. Beh, Quaregna e Cerreto avrebbe bisogno veramente di reperire dei fondi perché dovremmo intervenire intanto sulla viabilità, la messa in sicurezza di via Martiri della Libertà, che altro non sarebbe poi che il prosiego della via Mazzini. Di conseguenza, visto che noi lo scorso anno abbiamo avviato un progetto, realizzato e terminato, un progetto per la messa in sicurezza dei marciapiedi di via Quintinosella, sostituendo quindi la bordura in cemento con pietra e utilizzando porfido e quindi con una finitura anche di pregio. E abbiamo messo delle transenne, eliminando siepi contro siepi che oltre a portare tanta manutenzione, erano comunque un ricettacolo di sporcizia. Perché tra le deiezioni canine, tra le mascherine gettate e poi fazzolettini e quant'altro, erano diventate veramente... Era un brutto vedere e quindi, infatti, abbiamo provveduto e vorremmo fare la stessa cosa su via Martiri, in modo che ci sia un continuum. Un altro progetto importante, abbiamo un'area comunale importante, ludico-sportiva del Goretto, in via Quintinosella, al confine con Valdengo. E poi avremmo la riqualificazione della via Roma nella parte che conduce al parco Vitale Rosazza. Quindi il sindaco vi unisce letteralmente una via, tra l'altro una delle più trafficate in assoluto della zona. Sì, quando è emersa l'opportunità di avere dei finanziamenti che possono essere assegnati solo per città di superiore ai 15.000 abitanti o a consorsi, chiamiamo, di paesi, di città per superarlo, abbiamo naturalmente pensato subito ai nostri vicini di casa, con cui c'è anche un ottimo rapporto di collaborazione e speriamo che possa aumentare ancora di più in futuro, perché Cossato e Quaregna Cerreto sono sostanzialmente un tutt'uno, anche perché proprio ci piaceva l'idea, che è stata subito condivisa, di valorizzare questo importante asse che unisce le due città. E così abbiamo sentito Quaregna, che ha accettato volentieri questa collaborazione, che è anche una collaborazione, se vogliamo, simbolica, di unire due città che in realtà sono già unite, sia territorialmente ma anche a livello di popolazione.